Amici siamo sempre qui al Quirino, la conferenza è sempre appena conclusa e sono in compagnia di Oriunfol. Buonasera. Buonasera, buonasera a te. Allora, Arun è stato uno degli interpreti di punta della classe di Vincenzo Mann che è andato in scena qui a Roma al Salomberto, ma che ha girato anche tutta l'Italia con grande successo. Ha girato tutta l'Italia con grande successo. E adesso a Pro del Quirino. A Pro del Quirino siamo prontissimi per affrontare una nuova stagione, ricchissima, anche perché affronteremo diverse date. Siamo veramente felici di essere ospiti di uno dei teatri più importanti in assoluto in Italia e soprattutto a livello storico. Quello che abbiamo portato con la stagione precedente è stato molto forte e speriamo che la prossima stagione sia ancora più ricca. Un testo che è piaciuto molto sia ai giovani che ai meno giovani, è un testo che è un po' la fotografia di un disagio, diciamo, giovanile. Un disagio giovanile, ma un disagio un po' di tutti, un disagio che viene appunto dalle periferie e da quello che racconta la nostra realtà principalmente. Spero che lo spettacolo possa piacere e il ruolo che interpreto è un ruolo molto complesso e che spero di rinnovare ancora in questa stagione. Tra l'altro, diceva Vincenzo Amano in sede appunto di conferenza, che sono stati acquisiti anche i diritti per fare un film. Esatto. Questo è un'ulteriore soddisfazione. Questo è una soddisfazione enorme, si spera che questa cosa vada in porto, ovviamente, che lo spettacolo diventi una realizzazione ovviamente cinematografica, perché la necessità di raccontare questa storia non è solo più limitata al teatro, ma è diventata anche qualcosa di necessario per il cinema, in modo che tutti possano vedere di cosa si tratta e che tipo di realtà noi vogliamo raccontare. Anche perché il cinema ha bisogno di belle storie, no? Il cinema ha bisogno di belle storie, il cinema ha bisogno di bei protagonisti e ovviamente di raccontare uno spezzato della nostra vita. Splendido. Tu, insomma, il Cass è molto nutrito, no? Quindi con Claudio Casedio, Andreo Paolotti, Brenno Placido, Edoardo Friulini, Valentina Carli, Cecilia D'Amico e Giulia Poletti e Arunfolo. Ovviamente la regia è del grande Giuseppe Marini. Assolutamente sì. Allora, Arun, in bocca al lupo. Grazie mille, ci vediamo qui. Un piacere averti visto anche questa volta. E la cosa, come diceva qualcuno, la cosa è reciproca. Allora, appuntamento al 31 marzo. Appuntamento al 31 marzo al Teatro Quirino di Roma. Vi aspettiamo qui. Arun, in bocca al lupo. Crepi. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.